Richard, benvenuto a Reggio Emilia e Ciampo Volo. Sei pronto? Prontissimo. Per questa nuova avventura? Senti, hai scelto tu? No, ti hanno trascinato, i tuoi amici? È lui, è lui, è lui il cattivo della situazione. Senti, tutto chiaro quindi cosa andiamo a fare? Andiamo su a 4.000 metri e usciamo da un aereo. Che bello. Va bene, allora vediamo se me lo dice anche quando si apre la porta, che bello. Speriamo. Dai, fino a devi dirlo, divertiti. Tu devi pensare solo a divertirti, io sarò davanti a te, questo è il video e queste sono le foto, quindi ricordati di guardarmi. Non guardar giù, guarda me. No, guarda te. Poi tanto hai tutto il tempo a vela aperta di guardar giù. Va bene. Bene. Dai, ti lascio con Gabri che finisce di imbragarti e ci vediamo tra pochissimo. Perfetto. Ciao, ciao. Parma. Buona volta. Buona volta. Come volete, buona. Buona volta. 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 Ok Riccardo, le ruote le abbiamo a staccare, qui siamo in volo Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Allora, guarda che adesso, tutti incastrati, tutti incastrati, adesso ci liberiamo, ti è piaciuto? Wow, un sacco, bravo, è da fare per forza, è da rifare? Facci sicura? Allora, Richard ha provato, vatti 5 Mamma mia Grazie 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 Grazie